Ho perso tutti quelli che amavo e poi mi hanno rinchiusa dove non potevo sfuggire al dolore. Devo uscire. Scapperò via di qui. Ci sono guardie armati ovunque. E se Blu lo scopri, siamo morte. Siamo già morte tanto. Tu hai paura, non devi. Per raggiungere il tuo paradiso, lasciati andare. Vedi quello che stai immaginando? Hai il controllo di questo mondo. Che cosa stai cercando? Una via di fuga. Ti aiuterò a essere libera. Il tuo compito è trovare cinque oggetti. Il primo è una mappa. Sputami! Poi fuoco. Leggetemi! Un coltello. È una chiave. Rocket! La quinta cosa è un mistero. Comincia il tuo viaggio. Ti renderà libera. Sa che stiamo facendo? È l'unico modo per evadere da qui. Swimpy! Se non combatti per qualcosa, ti ritroverai con niente. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.